e passeggio tutta sola per le strade guardando attentamente i monumenti la classica straniera con un'aria strana che gira stanca tutta la città a un certo punto della passeggiata mi chiama da una parte un ragazzino sembrava prima vista tanto per benino si rompe a parta guida per la città Pedro 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 praticamente il meglio di salda a me Pedro 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 si arrivi Pedro 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 praticamente il meglio di salda a me Pedro 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 di salda a me Fino di me! Grazie a tutti.